Ciao a tutti, in questo video voglio presentare una poesia di Borges, La Luna. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Taramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo alla poesia, La Luna. C'è tanta solitudine in quel loro. La luna delle notti non è la luna che vive il primo Adamo. I lunghi secoli della veglia umana l'hanno colmata ad un antico pianto. Guardala, è il tuo spec. Bellissima questa breve poesia dove ci fa capire che tutto ciò che percepiamo dipende da noi, come lo percepiamo. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.